A fare dei comunicati nel momento dell'orario dell'aperitivo Addirittura in certi copi avevamo proprio inserito Ehi sono le 7 Non fa così vero Schweppes? Ah sai che pure fa ridere Ah beh questa è però un'altra campagna Che va Allora la chiudo così Schweppes L'inconfondibile Però nessuno sa come si scrive Vuoi una Schweppes? Io amo Schweppes E come si scrive Schweppes? Io la bevo Schweppes Schweppes L'inconfondibile Che nessuno sa scrivere Affan***o il muco Bevi di una Schweppes Frank è l'ora dell'aperitivo Vuoi una Schweppes? Io amo Schweppes E come si scrive Schweppes? Io bevo Schweppes Schweppes L'inconfondibile Che nessuno sa scrivere No è bellissimo dire che nessuno sa scrivere il tuo marchio Siete fighissimi Schweppes L'inconfondibile Che nessuno sa scrivere Che nessuno sa scrivere il yacht